5 ottobre 2002, ore 8 precise, mi sono distretto un minuto e un quarto d'ora con la connessione internet che non c'è, stavo rivedendo delle pubblicazioni, adesso guardando così per caso mi accorgo che stanno rifacendo un fuoco a quest'ora, o anche più imbecille di tutti gli abitanti, si domandava, è possibile tutti questi pochi, è impossibile, o restano i terroristi, o siamo di fronte all'attività vulcanica, o faccio pure una bella prova, come dico quasi sempre. E da un appunto che ho preso prima, guardando al cielo, quel che mi sembrava, se stai dicendo, una fesseria, mi sa che tanto fesseria non era, tratterebbe si di vapore acqueo, vulcanico, e poi io aggiungerò una nota qua, già espressa. E' impossibile un fuoco di quelle dimensioni, nessun erbaccia, nessun campo, poi troppi ne sono stati fatti dalla, che brucirebbero. Ha indiretta l'eruzione proprio del carattere centrale. e poi c'è un'altra cosa, che cosa è che cosa si può fare? Si può perdere dentro il pochetto perché, almeno non lo provo, sono andato a cercare, Si può perdere dentro il pochetto perché, almeno non lo provo, sono andato a cercare, troppo in mano, per la correttezza, per la correttezza, per la correttezza. Grazie a tutti! 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 E qua, dopo un quarto d'ora, ancora, questi erbacce, ancora, fumano. A presto. Grazie a tutti.